In mezzo a noi c'è una persona che ha deciso di sudarsi la maglia e ha fatto una promessa non quelli che non se la lavano da una settimana ma quelli che se la sudano e poi se la lavano anche Il viaggio andate e ritorno, l'incata in treno, il nostro amico Vili che ha almeno una foto con la squadra Questo è un ragazzo che ha una storia da raccontare, gliela facciamo fare corto e breve Allora in un minuto ve lo racconto Ho fatto tra amici una raccolta fondi per pagarmi l'abbonamento Anche perché sono povero Sono ricco dentro di spirito e di pancia In cambio io ho deciso di pagare di Tascamia il viaggio in treno più lungo che sono riuscito a trovare che è da Osta a Licata e ci metterò 29 ore Lo farò perché ho perso la scommessa perché pensavo di non riuscire a raggiungere il filtra Ascolta ma adesso vogliamo sentirti dire mi sono pentito perché lì mi ha fatto ricredito Ma io lo faccio come gesto di amore verso la squadra e verso la maglia Grazie qui a Osta a Licata andate e ritorno come pegno di un impegno che hai preso con i tuoi amici L'impegno che noi prendiamo questa sera che prende la squadra nei confronti della città è quello di sudarci la maglia tutte le domeniche e di quello di metterci tutta l'energia e tutta la forza che serve sempre per uscire a testa alta da qualsiasi sfida